Quando le condizioni diventano eccezionali, anche le soluzioni devono essere eccezionali. E così, per la prima volta nella sua storia, la partenza della Rood Room è stata spostata. Stamani i navigatori solitari sono tutti ancora a casa e dovranno attendere fino a mercoledì per partire, anche se ora e data esatta si sapranno solo oggi. Vento fino a 100 km all'ora, onde di 8 metri, praticamente insuperabili per una barca di 12 metri come il Class 40. Non si sarebbe usciti dal porto. Qui le dichiarazioni di Alberto Bona, già ricaricato e già pronto per la nuova partenza. Siamo appena usciti dal briefing della regata e per la prima volta nella storia la Rood Room è stata posticipata. La partenza ci hanno detto che non sarà come previsto domani mattina. Devo dire che è un po' un sollievo perché le condizioni erano peggiorate ancora e quindi effettivamente anche dai primi briefing di questa mattina le condizioni erano veramente brutte. Quindi per ora siamo in stand-by. Probabile partenza ci danno in partenza martedì sera o mercoledì mattina. Grazie.